Oggi facciamo le vesti alla nostra Madonna. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per Te. Oggi concludiamo quello che è il gesto pittorico sulla nostra Madonna. Vedremo la posizione delle vesti e degli assist di doratura. Quindi non vi rubo più tempo, so che è un gesto che mi avete già visto compiere, ma un po' di ripasso non fa mai male. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa c'è da fare. Riprendiamo il nostro lavoro e cominciamo a rimpinguare le vesti di colore. Il colore deve essere abbondante e abbastanza pozzangheroso, lasciatemi passare il termine. Definite gli spazi che andranno o dorati o di altro colore. E mano a mano riprendete il prototipo per rendervi conto degli spazi e della loro divisione. Da subito definite gli spazi secondo il loro colore, in modo che poi, passando sopra la tempera all'uovo, abbiate certezza di gesto e non vi confondiate sulle parti da dipingere in un colore e le parti da dipingere in un altro colore. Vedrete che immettendo il colore definirete anche meglio le parti che già avete scritto. Le mani assumeranno la loro forma definitiva contornandole col colore delle vesti e quindi tutto risulterà più semplice. Iniziamo ora la scrittura delle vesti del bambino. Abbiamo già fatto la cintola, come vedete, con un colore scuro, ma diverso da quello della Madonna. Ora definisco ad una ad una tutte le pieghe che poi diventeranno assist dorati. Questo mi servirà per capire l'andamento della veste e soprattutto, quando poi la veste sarà colorata e vedrete che sarà colorata con un tono chiaro, avrò le linee guida per poter passare sopra la doratura con certezza. Anche sul vestito del bambinello, mi raccomando, andate abbastanza copiosi, come vedete. Io immetto proprio il colore quasi gocciolante, ma non ad acquitrino, eh, mi raccomando. Definiamo ora meglio la capigliatura del bimbo scurendo i margini esterni, i bordi di contorno e quindi poi schiariamo le ciocche a luna a luna, lì dove vogliamo che siano pregne della luce. Allora, piano piano, con pazienza e pennellino sottile e di ottima qualità, mi raccomando. Mano ferma e controllate bene il gesto. Quindi riprendiamo anche le vesti, dando il tono, la tonalità finale, a quello che vogliamo addivenire. Quindi un tono pieno, corposo, senza trasparenze. Andate leggeri, copiosi con il colore e soprattutto assicuratevi che lo strato precedente di colore sia totalmente asciutto. Una volta passato il colore e fatto asciugare, riprendo tutti gli assist che sotto sono passati in nero e li ricalco in bianco, perché gli assist sono luce e il bianco di sotto li esalterà. Come vedete, non mi limito solamente a riprendere le linee principali, ma aggiungo anche tutti i tratti che daranno luce alla veste del Cristo e della Madonna. Piano piano, con certezza di gesto, mantenetevi sottili. Se per caso doveste incorrere in errore, il pennello doveste sgocciolarvi grossolanamente, tamponate subito con una salvietta e in caso ripassate il colore base. Nelle vesti, nella parte inferiore, come vedete, sto ripassando il nero nelle zone più marcate d'ombra e poi andrò anche lì a rimpinguare con i bianchi. È giunto il momento delle particolareggiature che poi andranno dorate. Per essere sicuri nel gesto della doratura, vi consiglio di ripassarle tutte con tempera all'uovo, con bianco, in modo che possano rilucere una volta passato il dorato e che voi abbiate un'ottima guida di sostegno alla doratura, che sarà qui molto minuziosa. Per fare in maniera idonea le particolareggiature, affidatevi al vostro prototipo. Se non vedete bene le particolareggiature perché sono confuse, cercate delle note bibliografiche. Cosa significa? Vedete anche vesti di altre madonne e su quelle regolatevi. Ma non inventate e soprattutto rimanete leggeri nel gesto. Grazie a tutti! Allora, apposti gli assist e le parti che vanno dorate passiamo direttamente alla doratura non abbiamo finito assolutamente di scrivere con la tempera al luogo siamo semplicemente definendo i dorati che poi andranno a sporcare un po' in giro e allora alla fine delineeremo tutti i particolari con i colori e quindi sarà un riprendere tutto quello che avremo fatto fino a questo momento per dorare gli assist della mia icona userò del loro zecchino, cuscinetto da doratore un coltello da doratore, questo è il tintoretto 3065 una spatola numero 1 della tintoretto e poi userò una missione all'alcol cioè una missione istantanea di ottima qualità questa della Ferrario poi un pennello per la spolveratura è un pennellino da poco conto per l'immissione della missione scusate il gioco di parole quindi un bicchierino di plastica per versare sulla missione lo strumento con cui andremo ad apporre la missione va poi pulito con alcol essendo quella una missione ad alcol versiamo una piccola quantità di missione all'interno di un bicchierino e ripassiamo su tutte le parti che vorremmo fare diventare dorate la doratura a missione già la conoscete se non fosse così andatevi a cercare il video dove ve la spiego lì dove c'è la I col pallino comunque in generale si passa la missione quindi potete subito apporre l'oro con una missione istantanea lasciare in posa pochi secondi e spolverare il gesto è lo stesso per tutte le parti da dorare mi raccomando siate precisi non inventate tutti i posti in cui andrete ad apporre la missione verranno in basi da loro quindi rimanete sottili nel gesto poggiate comunque la missione non vi spaventate e andate poi a spolverare se vi rendete conto che l'oro ha invaso anche campi che invece non avrebbe dovuto invadere nessuna paura in central a in central a una per pur essendo stati molto attenti vi accorgerete che l'oro ha invaso anche parti che non avrebbe dovuto invadere in questo caso cosa fare? riprendiamo la nostra tempera all'uovo e mettiamo le zone che vogliamo coprire dall'oro quindi ripassiamo lì dove vogliamo ci sia colore e non oro in alternativa potreste graffiare l'oro con un bisturi però questo è un passaggio più rischioso perché scalfisce la superficie pittorica creando dei dislivelli sul film pittorico che a me non piace tanto io preferisco ripassare con tempera all'uovo sul metallo lì dove non è nel posto giusto vedete? tutto si netta e in breve tempo diventa il disegno ben leggibile e tutto pulito e certo dopo aver ripreso e rifinito tutta la doratura con un po' di gomma lacca decerata la passo sulle parti che ho dorato fissandole e isolandole stiro bene senza lasciare residui in maniera molto veloce perché voglio dare appena un velo di protezione senza inficiare la parte dipinta andrò solo sulle parti dorate e non sulle parti solo dipinte bene per oggi il nostro lavoro termina qui con la posizione della gomma lacca dopodiché faremo riposare a lungo tempo la nostra icona meglio se passano sei mesi io non avrò tutto questo tempo e passeremo la prossima puntata all'olifa visto che bello, visto dar completezza a un'icona è sempre un momento di grande solennità e di grande soddisfazione sono quei tocchi di oro che santificano tutto il manufatto quelle strisce date così leggermente ma suavemente e anche però che illuminano tutta la pesantezza della tempera all'uovo che è così compatta, così grassa e che viene rischiarata da questo manto che viene dipinto dai tocchi di luce bene, io spero che questo video vi sia stato utile per infrancare nuovamente le conoscenze che vi avevo già elargito sull'icona di Sant'Agata gli assist li non li avevate visti li vedete qua per la prima volta e sono una parte molto importante dell'iconografia perché appartengono a tutte le vesti dei santi gli assist infatti sono la luce di Dio che tocca il santo e quindi è il momento di santificazione di quell'individuo di quell'essere umano che senza quella doratura non sarebbe eletto a creatura celeste e allora allenatevi a dare dei tocchi leggeri spolverate bene non vi preoccupate se la tempera poi verrà inficiata da qualche pagliuzza che rimarrà sul supporto perché nel momento in cui stenderete l'olifa tutto verrà ben spalmato e andrà via provate non direttamente sull'icona provate a fare dei segni di assist prima anche su dei semplici fogli di carta con la missione e con l'oro finto e poi solamente quando vi siete impratichiti passate al manufatto vero e proprio perché ricordate dove mettete la missione lì si attacca l'oro e quindi se sbagliate un corpo quello sbaglio rimarrà indelebile sulla vostra tavoletta ma niente paura è solo tecnica, esperienza e tanta buona volontà e queste tre cose a voi col tempo non mancheranno spero che questo video vi sia piaciuto come al solito per i video di iconografia vi chiedo uno sforzo in più mettete sì il pollice in su ma per favore condividetelo sulle vostre pagine facebook fatelo girare quindi pollice in su e condividete come dei pazzi ragazzi grazie se lo farete ma sarò contentissima se ogni giorno riuscirò a raggiungere anche solo una persona in più per diffondere questa cultura così poco conosciuta bene ragazzi vi ringrazio ci vediamo al prossimo video da Ombretta e da Arte per te è tutto alla prossima volta ciao